Sono solo 20 i positivi al covid registrati oggi in Abruzzo. Pochi però anche i test. Appena 787 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore per un tasso di positività del 2,5%. Il più giovane tra i contagiati ha 8 anni, il più anziano ne ha 69. Quasi tutti, ovvero 17, sono residenti in provincia di Chieti, mentre due dei contagiati sono dell'Aquilano e uno del Terramano. Nessun nuovo caso in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra tre nuovi casi e sale a 2.457, uno dei decessi avvenuto nei giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla ASL. Con gli ultimi 108 guariti attualmente in Abruzzo sono 6.877 positivi accertati, 51 e meno rispetto a ieri. Di questi 202 pazienti, tre in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 21 sono invece quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Gli altri 6.654, 93 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.